I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 34enne del posto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'equipaggio della radiomobile, impegnato in un controllo dell'attività veicolare nel corso di un articolato servizio preventivo disposto dal comando provinciale e finalizzato al contrasto dei reati in genere e a garantire il rispetto delle norme del codice della strada da parte degli utenti, aveva notato la strana manovra del conducente di un fuoristrada che, vista la pattuglia in piazza Santuario, aveva repentinamente svoltato verso via Messina cercando di dileguarsi. Tale manovra ovviamente non è passata inosservata ai militari dell'arma, i quali, insospettiti, hanno immediatamente inseguito la fuoristrada bloccandone la marcia in via Sant'Antonio. Sin da subito i carabinieri hanno avuto la prima sorpresa perché, avvicinatisi all'abitacolo, hanno nettamente percepito il caratteristico odore acre della marijuana avendone poco dopo riscontro quando il 34enne, sceso dalla vettura su loro richiesta, ha fatto scivolare sull'asfalto uno spinello già confezionato nella speranza, rivelatasi poi vana, di non essere notato da loro. Ovviamente tale rinvenimento ha indotto i militari dell'arma ad approfondire gli accertamenti e pertanto, unitamente al 34enne, che tra l'altro annovera specifici precedenti giudiziari proprio in materia di sostanze stupefacenti, si sono recati in via Federico nella sua abitazione per eseguire una perquisizione, dove poi, nonostante ne avesse negato la presenza, hanno invece rinvenuto un involucro con 34 grammi di hashish posto su una stufa, mentre celato tra la legna, hanno trovato uno scatolo di cartone con un barattolo di vetro contenente marijuana per complessivi 285 grammi. Ma non era finita perché all'interno dei cassetti della camera da letto, i militari hanno trovato anche il materiale necessario al confezionamento per la vendita al dettaglio delle singole dosi, nonché la somma di 300 euro ritenuta a provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha disposto la convalida dell'arresto, nonché la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari.